buonasera dolcissime dolcissime buonasera dolcissime dolcissime vi faccio vedere l'acquisto che ho fatto ho comprato questo frigorifero marca in the city vi ricordo vi ricordate quando ho fatto il video del mio frigorifero quello blu che ha detto addio frigorifero che mi ha abbandonato e ho acquistato questo qua in the city allora vi faccio vedere com'è di dentro allora questo è come si presenta il frigorifero della indesit guardate questo qua c'è la ventola sopra però non si vede mi sa penso di sì si vede si vede ragazzuoli allora questo è ripiano guardate quanto è bello tutto di vetro questo è il ripiano che si apre così che si mette la frutta il pesce ma qua usero solamente la frutta perché non voglio sentire quegli orari del pesce poi questo è l'altro diretto che si possono mettere il prosciutto la mortadella e salame quello che volete e no frost sotto e no frost significa che non ghiaccia sai che non devi fare con la fatica che prendi il cortello e smatti per togliere il ghiaccio avete capito poi vi faccio vedere com'è mia sorella l'ha messo troppo ecco qua vi faccio vedere anche il sotto come però vi faccio vedere com'è peccato che all'oscuro allora questo è il diretto di sopra vedete sono tutti così sono belli spaziosi in tutte e quattro mani mani e questo è il diretto di sotto sono tre questo non so che cosa significa sto caspita di coso non manco quello che mi ha venduto il frigo mi ha saputo spiegare bella cosa ve lo faccio rivedere di nuovo ecco qui frigorifero 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 vi faccio vedere anche qui com'è così vi faccio vedere il completo del frigo è alto un metro e o novanta allora che ne ne pensate aspetto i vostri commenti qui sotto al video ciao e al prossimo video baci baci ciao